Autocertificazione a portata di mano per recarsi nella chiesa più vicina. Sono queste le indicazioni per la Messa di Natale, sia per il 24 che per il 25 dicembre, ma anche per tutte le altre celebrazioni religiose di questo periodo natalizio. Queste le indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana, che ha suggerito ai parroci di orientare i fedeli a una presenza ben distribuita, ricordando la ricchezza della liturgia per il Natale, che offre diverse possibilità. Come si ricorderà, si è reso necessario anticipare l'orario della Messa della Vigilia, prevedendo la durata della celebrazione per consentire ai fedeli di rientrare a casa prima del coprifuoco delle 22. Per dare l'esempio, Papa Francesco la celebrerà nella Basilica di San Pietro alle 19.30, due ore prima dell'orario delle 21.30 da lui sempre mantenuto nel pontificato. In questo tempo di emergenza sanitaria che ancora perdura, molti segni esterni della festa del Natale saranno omessi, però certamente il Natale sarà vissuto con l'intensità di sempre, anzi oserei dire in un modo ancora più intenso, perché avremo la possibilità di andare all'essenziale. L'essenziale per noi cristiani è l'incontro con il mistero di Dio e dell'incarnazione. Il mistero dell'incarnazione è il ricordo di Dio che si fa vicino ad ogni uomo e ogni uomo non solo quando vive nella gioia, ma anche l'uomo che vive nella sofferenza. Pensiamo nel mondo in questo periodo quanta sofferenza causata dalla pandemia e allora ci piace pensare che in questo Natale, come sempre d'altronde, il Signore si farà ancora vicino a ciascuno di noi, a tutta l'umanità per alleviarne le sofferenze. Dunque sarà Natale quest'anno, come sempre, e ci auguriamo di poterlo vivere in un modo ancora più intenso. Faccio tanti auguri a quelli che ci seguono di incontrare davvero la luce del Signore. Sapete che uno dei segni più belli del Natale è quello della luce, perché la luce viene da Gesù. Allora l'augurio che in mezzo alle tante tenebre della nostra vita, tenebre di questi giorni, possiamo sperimentare la luce che viene dal Signore. Luce per tutti.